Una ricetta semplice e gustosa della tradizione ielsese, amata dai molisani ma molto apprezzata anche oltre i confini regionali. Ufuna Tegli, piatto reso celebre in Italia dalla sfida ai fornelli tra gli chef Rubio e Mancazione, in una puntata del programma Unti e Bisunti di qualche anno fa, è ancora una volta protagonista ielsi. Cipolla, peperoni e pomodori freschi, salsiccia sotto sugna e uovo, questi gli ingredienti. La Sagra d'Ufuna Tegli è organizzata dall'Associazione Promolise all'interno degli stabilimenti Metal Zilembo alla periferia del paese. Tre giorni dedicati alla cucina tradizionale ma non solo. Questa undicesima edizione sarà caratterizzata anche da buona musica dal vivo e sport. Si inizia oggi, la Sagra apre i battenti alle 19, poi alle 22 l'esibizione live del gruppo Regina The Real Queen Experience. Domani sera sul palco l'armata Brancaleone, mentre domenica si parte nel primo pomeriggio con lo sport Formula Enduro Sprint e Ape Cross per finire con lo spettacolo della band The Blue Diamond and Friends.